Per tutti i capricci vostri, i capricci e i cazzi vostri si ripercuotono sulla mia persona, sogni incazzato, farò il possibile per farvi mandare a casa, scriverò oggi alla procura della Repubblica, metto da parca l'amicizia, mi state facendo massacrare dei chiedi, voi, a voi, se posso vi mando a casa, non lo prometto, voi tutti e tre siete testimoni che io vi ho minacciato, denunciato, sogni incazzato, mi stanno massacrando nei plessi scolari, mi zii, per colpa vostra, per colpa vostra, non per colpa mia sicuramente, la vostra, l'ausiliare o vincere in generale? L'ausiliare, l'ausiliare, non ci sa se, non ci fa mettere davanti ai scuoli e dire a una persona, la macchina così non la vuoi me, devi fare solo questo, lasse le pelle, i vicini facciano la sosta, c'è la presenza dell'ausiliare, del traffico che ci dice a mamma, la metta bene, la macchina non le faccio la mano, non ammettere né il sanzena, non addirizzo il sacco, non appare avversare i vicini, dico questo è un aspetto, ma l'aspetto della sicurezza dei bambini, non ti interessa, tu va a fare un lavaggio tuo, poi i vicini di San Marco, ma ti hanno chiesto a te i genitori che cosa è cosa, ti hanno detto a me questo poi non mi serve, la presenza vostra come ausiliari del traffico. Dimmi la cosa, lui, ma i genitori ti stanno passando perché c'è la macchina stotto o perché non c'è la sicurezza dei vicini? Perché non c'è la sicurezza dei vicini? Fa sapere, fa sapere, lo hai visto il fungo, va bene, rifiutatevi di fare l'ausiliare nella sosta, rifiutatevi, oggi mi volto non verbale, io lo prometterò alla procura della Repubblica e chiederò un provvedimento disciplinare, te lo garantisco, te lo garantisco perché sennò io vi do il telefono, ti faccio telefonare a persone davanti alla Cesare che tu, le parole che mi stanno dicendo, tutte le mattine, tutte le mattine, cati dalle nuvole, tizia, io mi ho avuto un rapporto straordinario, stiamo facendo la guerra.